Musica Salve, sono Cataldo Perri, sono autore del libro Malura, edizione Rubettino, sono inserito in questa rassegna, si chiama Sciabaca, Sciabached, noi diciamo accariati, la rete di pesca, quindi la rete di cultura, sono molto contento stasera di aprire questo festival che porta avanti Rubettino, lo faccio con il mio libro Malura, alterno, come di solito faccio spesso quando presento i miei libri, alterno musiche e letture, brevi brani di lettura e delle musiche di mia composizione. Mi accompagneranno questa sera due grandi amici, due grandi musicisti, Checco Pallone, Tamborello e Chitarra, Piero Gallina, Lira, Lira Calabra e Violino. Il libro è una storia di fantasia, praticamente ambientata a Cariati, il mio paese, e nel libro diventa Itarica, invece di Cariati è l'anagramma del paese. Una storia di fantasia, una grande storia d'amore, però un viaggio anche nella sofferenza, nel travaglio, nel dolore, ma con un approdo con la speranza, la speranza che in effetti è il tema fondante e principale di questo mio libro Malura. Spero di rivederci ancora qui a Suivarie per le altre sciabiche. Un grande abbraccio e grazie. Grazie a tutti.